Angelo, la prima domanda è d'obbligo. La Banca Centrale Europea il 6 giugno ha tagliato i tassi, 6 giugno scorso. Domani si riunisce. Prima domanda, secondo te se taglia ancora i tassi? Seconda domanda, ma a noi che ce ne importa di questi tassi di interesse? Io non credo che interverrà già domani la Banca Centrale Europea perché c'è molta tranquillità, cercare di dare una situazione di sicurezza, di tranquillità alle persone quando in effetti i tassi di interesse sono ancora relativamente alti, ma quello che è alto è ancora l'inflazione, perché bene o male i rialzi che sono stati nei mesi spassati e non sono ancora stati assorbiti. Ci vorrà tempo perché io credo che l'aspetto fondamentale della vita di oggi è la propensione ai consumi delle persone, è cresciuta in maniera pazzesca negli Stati Uniti a livelli che noi non arriveremo mai probabilmente e questo fa sì che chi ha le materie prime non abbassi i prezzi, perché gliele chiedono e perché deve abbassarle, non lo fa. Di conseguenza io credo male non fare nulla, ma credo che prima di fare ancora, di intervenire ancora, secondo me aspetterà di vedere come si muove la Federal Reserve dopo le vacanze, ma anche la Federal Reserve è bloccata, tra virgolette, può darsi che il settembre intervenga per dare un segnale anche alle persone di attenzione, siamo vicini anche a voi, ma allora i ragazzi miei consumano, come dicevo prima, a rotta di collo, quindi i prezzi non scendono. Negli Stati Uniti l'inflazione è dovuta ai consumi, mentre però in Europa... All'importazione, noi dobbiamo importare tutto, non abbiamo quasi niente, l'Italia poi in particolare, ma anche gli altri paesi sono a livelli che devono comprare tutto dall'estero, e non è un caso che dopo la pandemia i prezzi siano schizzati perché non avevamo più niente addosso, non c'era più rimasto nulla.